La Regione ha presentato oggi la nuova programmazione europea 2021-2027. È stato fatto il punto innanzitutto sulla percentuale di avanzamento del PORFESRA Abruzzo 2014-2020, che è pari al 79,6%. Entro l'anno la Regione chiuderà la rendicontazione del FESRA 2014-2020, con circa 55 milioni di spesa già realizzata. Per quel che riguarda invece la situazione PORFSE 2014-2020, la percentuale di avanzamento è 92,9%. E dentro l'anno la Regione chiuderà la rendicontazione con circa 9,6 milioni di spesa già realizzata. Parte la programmazione 2021-2027, finalmente, con l'approvazione dei programmi da parte della Commissione. Un programma che è due volte e mezza quello precedente, quindi la capacità di spesa deve essere dimostrata almeno il doppio di quanto non è accaduto in passato. Stiamo rafforzando anche la nostra capacità amministrativa e l'assistenza tecnica e gli strumenti offerti anche alle amministrazioni comunali, perché poi i soggetti attuatori di tanti di questi programmi non è direttamente la Regione, ma sono i tanti altri soggetti attuatori che noi supporteremo e sosterremo con l'obiettivo di costruire e realizzare un Abruzzo migliore che superi i divari territoriali. Passando alla programmazione FESRA FSE 2021-2027, il totale dedicato alla programmazione è di circa un miliardo. Per il programma FESRA il totale è di 681 milioni di risorse con diverse priorità, ha ricordato il Presidente Marsilio, su tutte l'innovazione tecnologica. 406 milioni invece sono quelle dedicate al programma FSE con 5 priorità, occupazione, istruzione, formazione e competenze, inclusione e protezione sociale, occupazione giovanile e assistenza tecnica. I primi interventi FESRA partiranno a giugno 2024, quelli del programma FSE Plus partiranno a luglio 2023, con incentivi all'assunzione di disoccupati, all'occupazione dei giovani, ma anche all'istruzione ed educazione per bambini. Il grosso va alla innovazione tecnologica, alla transizione ecologica, all'energia. Tre quarti dei fondi relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sono su queste voci di spesa, mentre sul Fondo Sociale grande attenzione per le politiche dell'occupazione, sia quelle generali che quelle soprattutto rivolte ai giovani. Quasi nella metà della spesa viene rivolta a queste voci, sono le particolari urgenze ed emergenze del territorio e poi una forte attenzione anche al superamento dei divari territoriali, alla promozione del territorio, al marketing territoriale, quello che non c'è mai stato in Abruzzo, nei programmi precedenti, far conoscere l'Abruzzo anche per avere una richieduta in termini di ritorno turistico importante, come in questi anni abbiamo cercato di supplire attraverso la politica dei grandi eventi, ora cerchiamo di dare una strutturazione più costante alla promozione del territorio.